Oncologia, un dibattito tra esperti della salute e manager ASP, urge una sanità efficiente. L'importanza della prevenzione oncologica è stata accenuta in un rilevante confronto che si è svolto nell'aula consigliare del comune di Solorino alla presenza di una nutrita partecipazione. L'introduzione è stata affidata al primo cittadino Giuseppe Germano che ha preceduto l'intervento del commissario straordinario dell'ASP di Siracusa ingegnere Alessandro Caltagirone, il quale ha illustrato alcune delle attività svolte durante questi mesi del suo mandato e ha annunciato a breve nuove numerose assunzioni di personale non medico. Dopo ci sono stati l'intervento dell'assessore a servizi sociali Salvatice Cassi e la toccante testimonianza di una sua concittadina che ha superato una malattia oncologica. Sono poi cominciate le relazioni centrali con il presidente dell'osservatorio civico, il dottor Salvo Sorbello, il quale ha insistito sull'importanza di dotare alla provincia di Siracusa delle strutture sanitarie qualificate a partire dal nuovo ospedale. Sorbello ha inoltre chiesto l'immediata apertura del nuovo padiglione dell'Umberto I per la terapia intensiva e la rianimazione, la sistemazione del pronto soccorso e il ritorno del reparto di oncologia a Siracusa. Due tra i più qualificati primari siciliani, l'oncologo Paolo Tralongo e il chirurgo Vanni Trombatore, hanno poi illustrato in maniera estremamente chiara l'importanza fondamentale che riveste la prevenzione che davvero assume un ruolo cruciale nella lotta contro il cancro.